La Carpegna Prosciutto-Pesaro si regala uno splendido Natale con la seconda vittoria consecutiva che ora colloca la Vuella al quarto posto in classifica della massima serie. A decidere il match a Verona è stato Visconti decisivo nel portare verso il 90-94 finale la squadra di Repescia presentatasi in terra veneta senza capitano del fino influenzata ma calatasi in una battaglia con la Tezenis punto a punto con meno spettacolo ma tanto pragmatismo in più. Una vittoria da squadra matura e ora la Vuella tende alla Vitrifrigo Arena la capolista Virtus Bologna nell'atteso match di Santo Stefano in cui il termometro dell'entusiasmo è misurabile dal fatto che sono già esauriti i biglietti messi in vendita finora con una settimana d'anticipo. Ora la società prepara anche l'apertura delle gradinate. Umore esattamente contrario per la Viscesero che sabato a Carrara ha chiuso l'andata con un'altra scoppola. 3-0 in cui la Visc gioca la pari per mezz'ora poi l'ingenua quanto contestabile espulsione di Cusumano fra crollare una squadra estremamente fragile. La Carrarese chiude la pratica in mezz'ora e al sessantesimo la gara è già finita. La Visc chiude l'andata con i peggiori numeri 16 punti in 19 gare, 12 partite senza vittoria peggior attacco e peggior difesa del raggruppamento. Venerdì l'ultimo appuntamento dell'anno per redimersi contro una recanatese a pari punti che apparecchia un derby cruciale. Perde anche il Fano in Serie D. A Chieti cade 2-0 a causa di un contestato rigore nel primo tempo per fallo apparso fuori area e poi subisce il bis al 95esimo. Perde anche l'Ital Service che a distanza di una settimana dalla Supercoppa ritrova all'Olimpus Roma ma a gioire sono i capitolini per 3-0. Ital Service che tornerà già in campo mercoledì contro la Sandro Abate al Palafiera. Sconfitta 3-0 anche per la Megabox Vallefoglia che in Piemonte china il capo alla forza di Novara. Chiude invece in bellezza il 2022 la Fiorini-Pesero-Regbi che vince Napoli 22-30 la prima trasferta dell'anno e si prende 5 punti in classifica che le consentono di chiudere l'anno al quinto posto. Grazie a tutti.